E io ho avuto un grande successo di ammirazione. Da qualche giorno non sono più isolato, ma so in una cella con l'orto che tenuto con l'ora, che ha una bimbetta, graziosa e gentile, di tre anni. Ora, secondo un vecchio costume sardo, abbiamo deciso che Deglio sposerà Maria Luisa. È così che si chiama la bambina. Appena i due avranno compiuto l'età per maritarsi. Che te ne pare? Naturalmente aspettiamo il consenso delle due mamme. Per dare al contratto una valenza più impegnativa. Seppure, seppure... Spero che sopporti, e questo mi rende felice. Penisco a ti immaginare a sempre che sopporti. Ti abbraccio eternamente, caro. Grazie. 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 Grazie.